Recovery Plan, le priorità da mettere in campo per la prossima generazione Abruzzo. Il tema al centro di una conferenza stampa del senatore PD Luciano D'Alfonso. Nell'officina di Pescara, il presidente della sesta commissione finanze tesoro del Senato ha parlato del ruolo che la regione Abruzzo dovrà avere. Dal recovery, ha detto, arriveranno 3 miliardi per l'Abruzzo, più un miliardo dall'Europa, ma 163 progetti da finanziare sono troppi e secondo D'Alfonso la regione Abruzzo deve concentrarsi su tre tematiche ben definite. Io non ho convocato questa conferenza stampa per mettere in campo una polemichetta che non serve a nessuno. Voglio essere utile all'ordinamento della regione, all'economia di questa regione, ai territori e alle imprese. Allora, noi dobbiamo fare una scelta di campo. La mobilità e lo spostamento delle persone e delle merci è garantita, grazie alla cura del ferro che metterà in cantiere una ferroviarizzazione significativa. La seconda priorità è il trasferimento della conoscenza. Noi dobbiamo promuovere come priorità numero uno, dopo la partita ferroviaria e stradale, la priorità numero uno deve essere il cablaggio delle scuole, delle università e degli ospedali. Ma serve anche il cablaggio delle strutture ospedaliere per consentire che la conoscenza favorisca per esempio il fascicolo sanitario, la telemedicina e quella immediatezza della cura, che si adatta perfettamente alla condizione della persona, che se torna la fragilità attraverso la pandemia o altre forme di attacco alla salute umana, il cablaggio consentirà la piena continuità delle informazioni che poi consente la qualità della cura e della prestazione. Non è possibile che nel 2021 e 2022 ci siano ragazzi che abbiano la intermittenza del messaggio formativo ed educativo. Tutti i comuni della collina e della montagna non hanno avuto la continuità dell'educazione e della formazione perché c'era la digitalizzazione dei suoli, ma non il cablaggio delle scuole. In Abruzzo noi dobbiamo assolutamente arrivare a vincolare il 30% di tutte le risorse per questa straordinaria modernizzazione tecnologica che si chiama con la parola cablaggio.